ciao sono Ricky di Sportler e anch'io oggi sono al bike day a Garda ciao sono Luca anche quest'anno per la seconda volta in due anni siamo presenti qui a Garda abbiamo ideato queste due giornate di veramente fantastiche sensazioni dove tutte le nostre aziende partner sono qui che partecipano con noi tutti quanti hanno la possibilità di provare su strada e direttamente addosso dall'abbigliamento alle biciclette mountain bike e strada ai due percorsi dove puoi provare veramente le tue gambe e anche tutte le novità delle biciclette alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.